audio video cortesemente ben ritrovati alla nostra sessione delle ore 9 andiamo ovviamente come sempre ad analizzare un attimino l'apertura del DAX che più o meno come vedete già ha fatto un primissimo movimento in questa fase ieri una chiusura piuttosto interessante e quindi piuttosto preferibile questo K rialzo con una chiusura veramente molto molto debole più o meno vicino al minimo di venerdì sostanzialmente un nulla di fatto questo inizio settimana dopo un venerdì con un'apertura ad un meno 10% ieri abbiamo avuto sostanzialmente una candela giornaliera piuttosto piuttosto neutrale nel senso che comunque una giornata che ha presentato un inside bar all'interno della candela del venerdì siamo ancora a livello giornaliero in una situazione di iper venduto come vedete francamente l'apertura di oggi è abbastanza debole non sembra avere una forza piuttosto importante e la strategia ci dice che comunque potremmo potremmo shortare un attimino a questo livello qui fino alla zona dei 9330 quindi se ci andiamo un attimino comunque a settare i nostri livelli possiamo verificare effettivamente magari facciamolo con un grafico un po' più più stretto così si vede meglio eccolo qui abbiamo dall'apertura di delle chiusure di ieri all'apertura di oggi vedete abbiamo dei livelli ancora piuttosto piuttosto fiacchi non siamo arrivati neanche comunque ad un 60% del ritracciamento quindi dell'estensione in questo caso qui e sotto questo punto di vista un'apertura piuttosto debole e con un gap a rialzo semplicemente dovuto alla chiusura debole del giorno prima si prova un po' qui una strategia visto che comunque lo stop sembra essere piuttosto stretto e uno short quindi direttamente al mercato con stop direttamente sul 161.8 sembra essere in questo momento qui la soluzione più congeniale e ovviamente un target magari sul parlavamo di 9330 però francamente mi sembra un po' tanto io mettere un target sul 38.2 ok cosa che ci potrebbe dare poi lì in quella zona lì un'opportunità buona per per poter rientrare e cercare un una struttura irrazista a partire dal da quel punto lì e lo stop mi mi raccomando 161.8 uno stop lì ci sta tutto insomma è inutile prendere troppi rischi e ovviamente qualora la nostra operativa non dovesse andare a buon fine cerchiamo di di attendere un po' di far sfogare un po' il mercato in queste prime due ore magari verso le 10 e mezza 11 così capire effettivamente che soluzione sta cercando sostanzialmente quindi io personalmente consiglio un po' questa tipologia di di operazione e tenete in considerazione che comunque a livello giornaliero abbiamo abbiamo ancora una struttura piuttosto piuttosto instabile e quindi sotto questo punto di vista insomma cerchiamo di di fare attenzione soprattutto con il volume dei contratti che abbiamo a che abbiamo a mercato sostanzialmente e devo dire la verità abbiamo un sacco di divergenze in questi due giorni un attimino di mettere un grafico più chiaro altrimenti non si capisce nulla allora andiamo un po' sul ecco qui faccio vedere un attimino il bund ecco qui il bund grafico giornaliero del bund lo vedete è piuttosto congestionato anche il bund il vix è arrivato a quota 2347 andiamo a vedere anche la situazione del dell'oro così ci facciamo un'idea un po' più più in generale sull'attuale situazione piuttosto difficile che c'è sui sui mercati in questo momento qui lo mettiamo magari in un grafico giornaliero attualmente vedete siamo in zona di 1315 secondo me c'è un ampio margine sotto questo punto di vista vedete una doji di ieri piuttosto interessante siamo già sotto il minimo di ieri quindi personalmente è molto probabile che ci sia una correzione sull'oro quindi se tanto mi da tanto poi una struttura piuttosto interessante per quanto riguarda gli indici quindi un rimbalzo diciamo che nel breve e brevissimo periodo mi aspetto proprio questa correzione dell'oro magari fino a un livello di 1290-1285 in concomitanza avremo magari una correzione degli indici soprattutto del DAX un po' a recuperare il post Brexit ovviamente non ci si attende un recupero totale però insomma è legittimo aspettarsi un recupero quantomeno parziale e sotto questo punto di vista quindi una settimana che si potrebbe anche in mancanza di dati almeno fino a giovedì si potrebbe definire proprio in questo modo qui e per tutti coloro che mi chiedessero ovviamente sull'oro io dico sempre siccome nel medio o lungo periodo abbiamo comunque una visione piuttosto rialzista quantomeno a livello personale sull'oro benvenga se corregge perché ci dà veramente ottime occasioni per poter acquistare a un prezzo piuttosto importante quindi benvenga in questo caso qualsiasi correzione dell'oro va benissimo perché comunque ci dà comunque l'opportunità di rientrare e quindi sotto questo punto di vista insomma ricordatevi sempre che l'oro in questo momento è l'indicatore più interessante che avete e quindi mi raccomando insomma seguitelo con costante attenzione andiamo a vedere un attimino cosa sta succedendo un po' sul DAX vediamo se la prima operazione è andata in stop oppure no è ancora lì vedete un po' non ha tantissima forza siamo ancora un po' su quel livello lì di ingresso quindi al momento non sembra avere tantissima forza in questo momento qui e ovviamente per chi volesse provare anche su 161.8 qualora il prezzo dovesse sfondare quella barriera lì può tranquillamente provare un long fino al 261.8 vi ricordo che la giornata comunque è potenzialmente rialzista e se andasse a chiudere questo gap qui ci farebbe un favore veramente grande non tanto per guadagnare ma tanto per abbassare in una maniera veramente incredibile e in una maniera molto molto importante il nostro livello di rischio quindi qualora vi invito tutti insomma se riuscissimo a chiudere questo gap che si è creato proprio in apertura ben venga così abbiamo uno stop veramente veramente basso lo collocherò personalmente proprio sui 9320 quindi mi raccomando seguite queste primissime fasi del DAX perché comunque vi possono dare un'operazione piuttosto interessante andiamo a verificare anche l'SP500 andiamo a verificare intanto il DAX sembra andare a prendersi col 161.8 vediamo l'SP500 eccolo qui 2003 anche in questo caso qui abbiamo una situazione piuttosto importante un inside bar dentro un outside bar per chi non capisce un po' questo termine perché magari è un po' all'inizio e semplicemente quando si crea questa configurazione diciamo l'outside bar che in questo caso sarebbe la candela del lunedì sì esattamente e il massimo e il minimo diventano un po' i livelli chiave per andare o in acquisto o in vendito ok perché generalmente ci aspettiamo un breakout piuttosto importante per chiudere darei uno sguardo anche magari a uno dei cross più interessanti in questo momento qui il dollaro con lo yen eccolo qui ne parlavamo qualche giorno fa della possibilità di vederlo proprio scambiato a 100 quindi cercare un po' questa soglia più che altro psicologica adesso è 102 e diciamo che è stato toccato per via del Brexit adesso sta ovviamente scontando un po' questa fase questi due giorni di laterale questa fase laterale sostanzialmente e in questo caso qui ad esempio mi sembra abbastanza interessante la soluzione proprio di sfruttare eventuali breakout rialzista secondo me per cercare un po' un minimo di recupero proprio in questa zona qui 102.50 ok più che altro perché poi magari con questo breakout rialzista che possiamo avere ci permetterebbe comunque di magari di ricollocarci in trend di rinserirci un po' in short chiudo un attimino il quadro anche delle cross che seguiamo con l'euro lira turca vedete eravamo sul con un self stop a 3.27.50 qui lo vedete in un grafico giornaliero avevamo proprio un self stop qui in questa zona qui e adesso a 3.23.02 ok 3.23.02 lo stop loss comunque era abbastanza lontano in questo caso qui perché era un'operazione secondo me piuttosto interessante con l'otticino abbiamo già un migliaio di euro di guadagno e già diversi giorni di swap accumulati circa 4-5 giorni di interessi accumulati quindi continuate a seguire questa operazione qui chi purtroppo l'avesse persa francamente non consiglio adesso come adesso l'entrata più che altro per un po' per la difficoltà di inserire lo stop in questo caso qui chi volesse provare uno stop a 3.25.50 sembra essere la soluzione più più idonea sostanzialmente e vediamo un attimino se avete domande curiosità allora qualcuno mi chiede sul Fuzzimib ok andiamolo andiamolo a vedere un attimino il Fuzzimib mi fa questa domanda domenico quindi immagino che domenico avrai qualche posizione sul Fuzzimib la situazione è abbastanza speculare e qual è la differenza in questo caso qui in questo caso qui la differenza che ieri il Mib italiano ha formato un nuovo minimo creando una divergenza piuttosto interessante così ad occhio vedendola vedendola ad occhio e quindi in in questo modo qui abbiamo comunque una soluzione piuttosto simile a quella del DAX dal mio punto di vista però per via un po' del del settore bancario della situazione un po' del settore bancario che abbiamo attualmente in Italia francamente e non consiglierei tanto adesso un'operativa sul Fuzzimib i livelli qui per quanto riguarda i nostri livelli di Fibonacci abbiamo uno 0 a 15.098 più o meno e un 100 a 15.466 come vedete ancora non abbiamo un tocco del 161.8 in questo caso qui vediamo un attimino nel DAX molto probabile che ci sia stato questo tocco eccolo qui vedete con questo piccola spike c'è stato il tocco vediamo adesso se effettivamente riesce a finalizzare un po' l'operativo oppure se andrà a cercare il livello successivo e quindi stavamo vedendo un attimino il MIB italiano eccolo qui MIB italiano che francamente vi ripeto non mi sembra in una situazione piuttosto difficile proprio a livello a livello strutturale il doppio minimo di ieri francamente il minimo di ieri è stato abbastanza brutto sinceramente e non escludo neanche che vi possa essere una possibilità di spread trading su sugli indici europei con il MIB italiano ok la situazione delle banche mi preoccupa particolarmente sul Fuzzi MIB e quindi io personalmente non consiglio in questo momento di tradarlo e si Maurizio si può vedere la registrazione domenico mi scrive ancora sono long da 15.000 e hai fatto una buona operazione domenico secondo me hai acquistato su sui proprio sul minimo quindi l'operazione è sicuramente ottima e ti ripeto io personalmente magari puoi anche capitalizzarle intorno ai 16.000 vista così e la cosa magari che potresti anche fare secondo me non so con quanto importo si è entrato e cercare un attimino di spostare lo stop loss no magari di monetizzare un po' mezza posizione intorno ai 15.700 secondo me una parte portarti da casa poi l'altra parte lasciare un po' un po' non ho una visione tanto ottimistica su su questo su questo indice e quindi abbiamo fatto un po' un breve riepilogo della situazione andiamo a completare un attimino anche con il petrolio che sempre insomma è sempre uno degli asset più tradabili attualmente in zona 47 io un paio di settimane fa se ricordate per chi mi segue avevo detto che per il trimestre estivo sicuramente si sarebbe sicuramente con buone probabilità possiamo vedere adesso una fase laterale piuttosto importante che secondo me oscillerà tra i 55 e i 45 dollari quindi oscillerà su questi 10 su questi 10 dollari per quanto riguarda il petrolio se avete comunque altre domande vi ricordo sempre che avete la mia mail andrea.dimarco chiocciola xtb punto it chiudo con l'ultimissima domanda di Valerio che mi chiede quale può essere un buon livello per un long sul DAX il problema non è tanto qual è il buon livello perché sicuramente ogni livello come si dice buono per comprare il vero problema è che in funzione del livello a cui compro deve essere idoneo per settare al meglio il mio stop loss sul DAX il punto qual è è che sul DAX secondo me ti ripeto il livello ottimale per comprarlo oggi sarebbe 9370 più o meno quella è un po' la quotazione che mi piacerebbe vedere per poterlo comprare uno stop secondo me di 50 punti ci sta 9320 ok quindi 50 punti di stop e poi cercare di far correre la posizione il più possibile capitalizzare il più possibile considerate che con la volatilità esplosiva che è adesso 100 punti il DAX li fa abbastanza rapidamente l'abbiamo visto anche ieri insomma una situazione di breakout piuttosto interessante proprio la rottura di 9321 e la formazione del minimo proprio di giornata perfetto il tempo a nostra disposizione è scaduto io vi ringrazio Andrea.di Marco chioccio l'xtp.it per qualsiasi altra per qualsiasi altro approfondimento grazie mille a tutti e buona giornata